Senta un momentino che controllo l'agendina perché purtroppo domani c'ho una marea d'appuntamenti e voglio vedere se si riesce a trovare un barco, attendo un attimo per favore Ma che devi controllare? Zitti! Ma controlla da quanta che non mangi no? Zitto dai te prego, reggete per gioco, dai! Oscar, ma che tolo ti devi dare? Ma datte una guardata te piuttosto Basta! Aiutatemi! Pronto? Gliel'abbiamo fatta, abbiamo trovato un piccolo barco Senta, lei va bene verso le 11.30, 11.45? Sì, per me va bene, l'aspettiamo con molta ansia Benissimo A domani A domani allora Mi stia bene? Benissimo, grazie Grazie, arrivederci a domani A domani Io dico soltanto una cosa Che prima c'era la faccia da buono Adesso sono diventato un fiota, una mignotta, va bene? Oh, ma che ci vuole cercare qualcosa? Ma si tratta del film Signori, mi hanno offerto 20.000 dollari Dico 20.000 dollari Moltiplicato per due In lire italiane so 40 milioni Sapete per fa' che? La parte dell'antagonista L'antagonista Sapete chi è l'antagonista? Usa chi è Questo è il manifesto del film, va bene? In alto a sinistra c'è il protagonista Al centro c'è la fia de Ming In alto a destra c'è l'antagonista Ve l'ho spiegato? Tutti a dimmi Te li fa' la plastica Fate l'aschiamento Fate il tiraggio Io sapevo che sta faccia prima o poi lavorava Lo sapevo io A rigu Che facciamo, barona? A ritagli e gli avi Rimandiamo tutto a domani Ricogliele Mi portite fuori Grazie Grazie Grazie